Ciao a tutti amici e amiche del Master High Oggi voglio farvi una recensione su questo teschio che ho creato io che si appende a una porta Allora, è a teschio, simbolo scolastico Guardate, si vede proprio che è stato creato da me perché non è uscito molto bene Però diciamo che un pochino è tosto Allora, adesso vi spiego come si crea Perché non voglio di farlo, cioè Non voglio spiegare i fogli, quindi vi dico come si crea Allora, per prima cosa Dovete prendere o un cartone o se non ce l'avete un po' di fogli Almeno tre fogli Ok, disegnate questo teschio Fatelo al più meglio, al meglio possibile Dopo, incollate Allora, quando avete disegnato questo teschio Quindi lo tagliate dopo averlo anche colorato E sto dicendo che lo dovete incollare su un altro foglio E quindi poi di nuovo ritagliarlo Lo incollate su un altro foglio e dopo di nuovo ritagliarlo Però prima di incollarlo anche sul terzo foglio Però Prendete un filo Ho preso questo qui E Lo ingollate al foglio dopo averci fatto la forma Così lo ingollate e voilà Ed esce questo Adesso vi faccio vedere come sta bene attaccato la porta Soltanto che io non lo metto perché i miei cugini vengono e me lo rompono In un minuto In un minuto che l'ho messo già me lo hanno rotto E quindi via Adesso vi faccio vedere com'è Ecco Guardate com'è bello Poi C'è ancora Più bello se è proprio la camera piena delle cose Mostrerai E io infatti ce l'avrò Poi Andiamo avanti Quindi Ho due cassetti pieni Due mensolette piene Però presto avrò una libreria piena Perché come vi ho detto già Vi comprerò una libreria La metterò qui E quindi poi Metterò tutto La roba Cose del mostrerai Bene E quindi adesso si può mettere a posto Quindi un saluto a tutti quanti Tutte quante Le mie mostreramiche E Niente più Tutto questo E poi Farò una Dedica Per adesso Tutte i miei tre iscritti Però la farò E spero che Si aumenteranno Quindi Via Adesso vado E preparerò Una videodetica Ciao 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 Grazie.